reparto esperienze un moto podcast di paolo sormani parte prima i domatori delle acque alejandro de tomaso ebbe appena il tempo di avvertire lo spostamento d'aria alla sinistra del suo gessato su misura l'attimo successivo vide il prototipo schiantarsi sul portone metallico del reparto esperienze il clangore lo destò dalla sorpresa può ed esser possibile avviare una moto da due quintali e lanciarla in prima marcia verso di lui che era salito da modena a salvare la patria pericolante della moto guzzi si bloccò sui suoi passi senza tardire sgomento né timore non ne aveva furore se mai girò la testa lentamente come in un western di sergio eone per saettare i suoi occhi in quelli dei collaudatori li avrebbe sbaranati vivi invece don alejandro dovette trattenere una seconda volta la sorpresa non soltanto non gli porgevano il collo reggevano lo sguardo il padrone li squadrò uno a uno nello stanzone si udivano gemere solo le ventole di aerazione ci mise poco detto maso a capire che in quel serraglio di fanatici del giro al minuto le minacce di licenziamento in tronco non avrebbero funzionato e poi come avrebbe fatto senza di loro i collaudatori davano del tuo alla meccanica e capivano le valvole con più facilità delle persone rispetto per i dirigenti dipende se mostravano del vero cuore i destini della moto guzzi allora sì gli altri i carrieristi furbi profittatori prego andare detto maso sapeva di non essere il benvenuto lì dentro dopo aver chiuso il reparto sperimentale corse nel 73 lo sapeva bene anche quel pomeriggio in cui spazientito aveva fatto irruzione tuonando in properi metà in spagnolo metà in italiano caga sotto mezzi uomini maricones i collaudatori avevano la colpa di aver chiesto freni migliori a disco sulla gt 850 testa nera mai però si sarebbe aspettato una reazione così violenta dopo secondi interminabili alejandro de tomaso fulminò d'ira il muro di tute blu e sguardi ostili prima di girare sui tacchi e sbattere il portone alle sue spalle il reparto esperienze era il sancta santorum della moto guzzi un olimpo abitato da uomini veri che rischiavano ogni giorno la vita in sella alle maxi moto i collaudatori erano operai specializzati in qualcosa che nessuna scuola professionale o bottega poteva insegnare creature quasi mitologiche centauri per metà piloti per l'altra meccanici anche da loro dipendeva la sorte dei modelli costruiti nel fabbricone degli anni venti infilato tra uno sperone roccioso e la ferrovia litoranea su quel ramo del lago di como molti ambivano entrare in moto guzzi in particolare i motociclisti erano loro a sognare l'ingresso in quella aristocrazia della classe operaia immaginatevi gente che passava il tempo in moto salariata per correre velocità insensata ogni santo giorno estate o inverno bagnato o solleone se non era vita quella e che moto signori miei le potenti bicilindriche a v dell'aquila un sogno per gli appassionati di mezzo mondo per i collaudatori erano semplicemente il pane quotidiano a ognuno era affidato un prototipo un esemplare pre serie di cui andavano gelosissimi guai a svelare i progressi le raffinatezze della macchina agli altri era come un campionato privato che si correva dal lunedì al venerdì anche il sabato quando correva e ragazzini intorno al lago se li mangiavano con gli occhi si segnavano i loro passaggi per capire cosa stavano provando i più fortunati si avvicinavano per rubare chissà quale segreto o novità non appena i collaudatori si fermavano dieci minuti per bere un caffè o rinfrescarsi con il ghiacciolo nella calura dell'estate di quella sporca dozzina di audaci sergio rusconi per tutti il rusca era uno dei più ammirati temuti ammirati perché era entrato alla moto guzzi nel 1968 con le mostrine da campione italiano ed europeo di velocità e montagna su ermacchi e guazzoni era un operaio specializzato super che aveva avuto il nome e la fotografia su motociclismo per dire quando fu messo al lavoro sulla prima v7 con il telaio rosso furusconi a tirarle fuori gli artigli trasformando il motore di una pacciosa gran turismo in un rapace falco tra le aquile il sergione era temuto per il suo carattere bastava un niente a fargli girare le bielle come durante uno degli autunni caldi che si erano accaniti sulla moto guzzi parastatale al giro di boa del 1970 di solito quando i cancelli erano presidiati lui si presentava al cancello di via parodi alle 5 del mattino per cambiarsi e partire prima che si formassero i picchetti una certa mattina fece tardi e si materializzò al portone della fabbrica alle 7 impaziente di provare il nuovo asse a cam montato la sera prima sul prototipo della gt oi pirlone servo del padrone dove pensi di andare guarda che qui si entra solo per andare in infermeria di butoli il capataz del picchetto una faccia da schiaffi incorniciata da due basettoni che levati il rusca si limitò a scavallare di sella perché lui girava preferibilmente in moto anche a dicembre si tosse il casco tenendolo per il sottogola fece qualche passo bel tranquillo e disteso come per chiedere il perché e per come e senza sprecare una sillaba schiantò la gv sul naso della guardia rossa è collaudato per resistere all'asfalto c'è qualche testa che vuol fare la prova ringhiò agli altri silenzio ed entrò per sergio rusconi i diritti dei lavoratori erano buoni giusti si lottava anche per lui ma se qualcuno osava mettergli bastoni fra le ruote quando c'era da sviluppare la roba buona non c'erano compagni diavolo padre eterno che tenessero neanche un alejandro de tomaso per dire è che i collaudatori della moto guzzi erano uomini duri dovevano esserlo per forza col lavoro che facevano timbravano al mattino presto partivano e fino a sera chi li vedeva più quando tornavano anche se ormai era quasi mezzanotte si mettevano religiosamente ad annotare sul libro dei collaudi tutti i comportamenti fuori ordinanza quei rumorini strani che avevano captato durante tutte quelle lunghe ore di tet a tet il giorno dopo i tecnici montavano il pezzo sulla moto spesso senza dir loro come era fatto per controllare se ci avevano visto anzi sentito giusto si provava soprattutto in inverno e primavera mesi in cui dal cielo scendeva di tutto protetti solo da una pesante tuta di pelle nera e dal casco le mani gelate gli occhi così fissi sulla strada da sembrare di vetro i muscoli sempre tesi nello sforzo di domare la bestia e tornare a casa interi capitava che allora del tè a rusca dicessero domani voglio 500 chilometri su questo prototipo per vedere come si comportano le molle nuove e allora lui prendeva e via a manette in direzione a milano poi la seravalle fino a genova giù a sinistra fino a sarzana parma e ritorno con gran finale sullo stelvio per vedere se in discesa i freni tenevano ancora perché è lì che li collaudavano i tamburi e i dischi sui tornanti di sponda lunga in discesa un po come quando gli ingegneri aeronautici fanno il primo volo di prova dopo la revisione del motore dell'aereo il classico dritto che faceva girare i rullini del contachilometri nell'officina imboscata dell'amico e poi si nascondeva al bar a giocare a carte non abitava da quelle parti lo avrebbero smascherato gli appassionati e prima ancora l'usura del pezzo verificata al giorno dopo tant'è che ormai i collaudatori avevano preso l'abitudine di catalogare mentalmente i prototipi non secondo la cilindrata ma i chilometri giornalieri di prova 700 giorno sulla v7 special 800 sulla 850 gt 1000 per sua maestà la v7 sport il giro più rilassante una vera gita premio per alcuni ma una rottura di balla infinita per il rusca era quello da 2400 chilometri in due giorni quando c'era da provare la tenuta dei motori una volata da mandello fino a bari tutto un rettilineo nel 74 con l'eccezione di monza di piste a disposizione per provare non ce n'erano neanche gli autovelox però e poi si scendeva il caldino specie se era già la fine di marzo aprile vi dimatto il biglietto dell'autostrada all'arrivo ci si concedeva una bella mangiatina di pesce come si deve che il misoltino del lago sarà anche buono ma lì è tutto un altro cinema vedi il mare quanto è bello all'alba poi un tuffo nella vasca del ritorno tutta autostrada 180 200 praticamente come stare accucciati sul divano con la testa che si svuotava e fluttuava leggera nonostante le vibrazioni alte che staccavano i muscoli dalle ossa all'altezza di imola il rusca trovava sempre un'ora da dedicare alla marisa una mora della madonna con due tette che erano un inno alla gioia l'aveva conosciuta la 200 miglia del 72 lei amica del valter villa con marito motorista che lavorava in ducati ogni volta una rivincita a lei piaceva farsi prendere così di impeto assalto il rusca non faceva complimenti ogni suo desiderio e volere signora e la ripassava di pelo e contropelo prima di fumarsi la ms di rito e rimontare in sella a lui bastava moto italiane auto tedesche mogli degli altri non era come i piloti veri attesi da una donna diversa ogni gran premio ma insomma modestamente se la cavava a cortina per dire si era fatto anche un'amorosa la selene che fosse sposata al proprietario del garni adler dove sostavano a dormire i collaudatori della guzzi durante il giro della ciclistica sulle dolomiti era un dettaglio trascurabile certi pomeriggi con la scusa della regolazione fine delle sospensioni il rusca prendeva la california e diceva mesco a fare una sgambatina la riporto domattina tre orette fino a cortina canederli ciulatina non necessariamente in quest'ordine e il giorno dopo si ripresentava al reparto esperienze bello fresco e con un sorriso largo così altrimenti c'era quello che chiamavano il giro delle sigarette quello veloce il nome derivava dall'abitudine del sure carlo guzzi di farsene comprare dai collaudatori lei sta uscendo se passa da lecco mi fa un favore e mi prende due pacchetti di winston poi lascia i soldi al portiere di solito era la valsassina fino ad ervio e ritorno altrimenti era la circunnavigazione del lago di como tutta stecca con gran finale nelle pieghe di quello che era il circuito dell'ario colma di sormano asso canzo bellagio il ghisallo poi giù impicchiata ancora verso lecco era lì che osavano le aquile su quelle strade strette tortuose tutto un tornante un rampino con le foglie l'umido sui lati meno esposti al sole dell'autunno e più avanti l'insidia del ghiaccio sempre in attesa dietro la prossima curva però i collaudatori si esaltavano sull'ario quando uscivano in coppia o addirittura in tre a volte scattava la garetta per il campari del sabato mattina pagato giù al bar del ghets sul lungo lago delle volte tornavano così sbrindellati con le tute grattate sulle ginocchia e sulle spalle per via delle rocce sporgenti che l'ingegner tonti alzava gli occhi al cielo e faceva finta di niente con un mezzo sorrisetto che in fondo un po le invidiava quei senza dio e comunque si fidava di loro quando i computer servivano solo per andare sulla luna con i suoi sensori innati il pilota collaudatore era la centralina fosforica la telemetria vivente il terminale umano troppo umano del reparto esperienze anche la municipale i carabinieri la finanza insomma ogni forza dell'ordine che teneva bada la fauna locale chiudeva un occhio camminavano forte da corridori sempre con la vista lunga da nibbio la situazione sotto controllo nei limiti e poi quello era nido dell'aquila nessuno avrebbe creato problemi alla moto guzzi che aveva già dato lavoro a tre generazioni di laghe che poi il lago per quella gente lì era come se non ci fosse giusto un'idea un lembo una sfumatura di blu nella visione laterale di tempo per guardare panorama non ce n'era una volta la pina di malgrate aveva chiesto sergione di portarla a fare una gita romantica fra colico e gravedona mentre si stava giungendo al dunque sulla spiaggetta dove l'adda confluisce nel lago di como il rusca si stupì anche se ci passava un giorno sì l'altro pure gli sembrava di non esserci mai stato da quelle parti quando succedeva qualcosa di solito la colpa era attribuita al cedimento meccanico e alla legge fisica dell'impenetrabilità dei corpi qualche volta bisogna ammetterlo anche alla velocità non quella dei collaudatori però degli altri i pipi di implumi con la percezione spazio temporale come dire più contemplativa normale ecco prego considerare cosa era successo nel 1937 a omobono tenni è una storia famosa quel giorno di marzo il diavolo nero stava provando la sua moto da gran premio con aldo pigorini a beverate di brivio sotto lecco un autocarro qualcuno dice un carro non ti svolta a tradimento proprio mentre i due arrivano a cannone non ci fu neanche il tempo di frenare patatrac tenni rimediò una botta alla testa e nell'urto si tranciò di netto due dita del piede nonostante la contusione e relativa confusione mentale il pilota ebbe la prontezza di spirito di raccogliere le due dita e avvolgerle in un fazzoletto prima di farsi trasportare in ospedale a lecco da qui in poi è mito sottoposto alle cure forse per lo stordimento tenni si dimenticò le dita nel taschino della tuta alla fine quando se ne ricordò le estrasse dal fazzoletto e chiese al dottore ma siamo ancora in tempo a riattaccarle e non sarebbe stato l'ultimo incidente visto che due anni dopo rischiò l'amputazione della gamba mentre provava sul circuito dell'ario nella discesa di magreglio per il solito carretto di troppo cose che capitavano sergio rusconi non sarà stato un uomo bono tenni ma le sue settimane di vacanza tra la sala gessi il traumatologico trascorse a maledire la suora se le era concesse anche lui la mina più terrificante la tirò un pomeriggio di primavera che era uscito per il giro delle sigarette torno subito aveva detto al caporeparto cherubino robecchi neanche fosse sua moglie un classico solo che ad abadia lariana si trovò davanti dal nulla la 500 bianca di certa professoressa frigerio ma riassunta mentre usciva dallo stop direzione lecco lui arrivava a tuono da mandello sulla preserie della prima 850 le mans a velocità le mans così avrebbe recitato il rapporto della municipale quella sera abbagliata dal sole la conducente della fiat 500 bianca targata como 150321 non si avvedeva del sopraggiungere del motociclo sperimentale condotto da rusconi sergio morale un secondo dopo la metà anteriore della 500 non c'era più mentre la moto guzzi sullo slancio aveva completato il lavoro tirando giù un palo della luce e ripiegandosi in uno rigami fatto male del collaudatore nessuna traccia sparito presero a cercarlo ovunque dietro le siepi sotto le macchine un vigile varcò il portone aperto dell'officina meccanica brugolfair di agostini giacomo giuro per sapere se l'avessero soccorso là dentro figurarsi il casino delle macchine era tale che gli operai non si erano accorti di nulla il sergione era sparito a quel punto ormai era l'imbrunire chiamarono i pompieri subacquei per cercarono il lago proprio dietro il curvone niente niente poteva essere volato oltre il parapetto arrivarono con due gommoni a scandagliare lo specchio d'acqua sotto gli sguardi interrogativi di una piccola folla ormai intriata dal mistero del collaudatore scomparso anche dalla moto guzzi prontamente informata del fatto avevano inviato il furgone scopa dell'assistenza guidato dal clerici l'autista tutto fare dopo un paio d'ore i soccorritori cominciarono seriamente a preoccuparsi uno che a casa aveva tutti i diaboliche la sapeva lunga avanzò l'ipotesi che quella moto maledetta fosse arrivata da sola probabilmente radiocomandata da un elicottero a quel punto lì anche il clerici era un filino opprensivo lui che ormai era abituato a tirarli su col raschietto si defilò verso l'albero di fico un po più avanti per una pisciatina distensiva si sentiva pronto per lo scrollone finale quando sentì provenire dall'alto un flebile lì per lì lo scambiò per il verso di uno di quegli uccellacci che prima o poi finivano per dare il nome a un aguzzi guardò in alto diciamo un 3 4 metri da terra un tutt'uno coi rami le foglie sergione aveva nidificato agonizzando in una figurazione che ricordava la guernica di picasso quella volta lì lo presero per un orecchio e che le moto le affidavano i collaudatori con un compito molto semplice trasformarle da ordini molto pericolosi a prodotti un po meno pericolosi soprattutto quando c'era da mettere a punto i freni il cambio c'era poco da scherzare con i pantaloni ascellari tenuti su dalle bretelle e quel fare da bravo uomo che aveva l'ingegner giuseppe todero scendeva sempre ad avvisarli oggi avete due marce nuove fate attenzione mi raccomando e difatti succedeva che ogni tanto le ruote si bloccassero magari lungo un discesone con vista di rupo e fugace scorcio sull'aldilà anche la prima 850 gt california al reparto esperienze se la ricordavano bene aveva mandato sette collaudatori su otto all'ospedale in un caso anche al cimitero indovinate chi era l'ottavo l'indenne lui il sergione che di fatti poi la dirigenza lo caricò su un aereo all'italia da linate con biglietto per los angeles doveva insegnare agli americani come bisognava prendere quel bestione per le corna quando si presentò alla highway patrol così sparuto e con i suoi capelli neri tirati da una parte quei bistecconi biondi abbronzati prestati dal surf gli risero dietro e così questo mangiaspaghetti vorrebbe insegnare a noi come si guida una moto di inglese rusconi ne masticava poco in compenso manetta ce n'era quanta ne volevano le sue percorrenze di curva sulla california gt fecero talmente impressione agli istruttori che dopo una settimana le pachidermiche harley davidson elettra glide erano già consegnate al plesto cene anzi la highway patrol gli fece una gran festa d'addio appuntandogli il distintivo onorario quando rusconi tornò mandello con la patacca sul giubbotto la sua fama salì alle stelle l'episodio che lo consegnò il mito eterno però doveva consumarsi a poche curve dalla fabbrica